Sono alti, perciò bloccateli prima che arrivino in zona canestro. Icori, dovete andare in campo. Manca un paio di minuti. Sì, va bene. I discorsi non servono più ormai. Io voglio ringraziarvi per questi mesi. Sono stati stupendi per me. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Sì. Dobbiamo vincere per tutte le piccole scuole che non arriveranno mai qui. D'accordo. Voglio vincere per mio padre. E per il nostro allenatore che ci ha portati in finale. Grazie. Ok. Per il Dio dei Cieli è lo stesso dover affrontare la lotta con grandi moltitudini o sparuti gruppetti. Perché la vittoria non rifulge per la quantità dei nemici, ma per la forza che il cielo ha donato. E Davide mise mano alla bisaccia, ne trasse una pietra e la scagliò. E colpì il gigante alla testa, ed egli cadde riverso. Amen. Amen. Vi voglio bene, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.